Bentornati a tutti sul mio canale, io sono MajinBoobs, nuovo showcase, team Super Warrior, un team che pensavamo stesse nascendo quando sono usciti questi personaggi, invece è nata e morta lì la cosa, perché non è più arrivato nessun Super Warrior, non abbiamo neanche i 5 colori completi e tantomeno abbiamo 6 personaggi che baffino il tag Super Warrior per fare un team veramente completo. Quindi Dragon Ball Legends, si può sapere che stai aspettando per darci altri personaggi del tag? Prima di cominciare vi chiedo gentilmente un like per il supporto, dopodiché se siete nuovi sul canale vi invito a premere sul tasto iscriviti perché non ve ne pentirete ragazzi si diverte un sacco qua. Detto ciò, sigla. Eccolo il nostro bellissimo e incompleto team di Super Warrior, abbiamo Krillin e Yamcha, 6 stelle, sono diciamo il minimo per avere la doppia z-ability ed è veramente importante per questo team del momento che è totalmente incompleto. Dopodiché tiene a 7 stelle, ci abbiamo anche qualcosina in più di statistiche, come panchinari abbiamo inserito Yamcha Titan per gli HP, dopodiché questo Yamcha Hero per questo magnifico buff del 21% per la Strike Defense dei Super Warrior durante la battaglia, cosa utilissima. E per concludere abbiamo 13 Extreme, perché è uno dei miei personaggi bench preferiti in assoluto. Abbiamo meglio dato un'occhiata rapida agli equipaggiamenti, sono assolutamente questi, penso non ci sia nulla da aggiungere per un'analisi dei personaggi, vi rimando a un sacco di tempo fa quando ancora c'era speranza per questo team. Detto ciò raga, andiamo in PvP, via. Partiamo contro un Team Fusion, ok, counterato di colore subito, non benissimo. Ok, Clash, abbastanza bene, perfetto. Avviciniamoci e blastiamo, ottimo. Dentro Krillin, e purtroppo ho già finito le mie carte. Preso? Yes! Ok, ottimo. Uh, speravo in uno step. Va bene, va bene, ci facciamo attaccare un attimo, buttiamo TN, non dovrebbe avere Rising Rush, dato che gli ho appena eliminato tre sfere. E ti è in tank a benone. Kefla, tranquilla, Kefla. Va bene, prendiamo, basta che non mi feinti. Basta che non mi feinti, mi raccomando. Ok. Bene, debuffiamola. Ottimo. Entro Yamcha. Va bene, Vegito. Va bene, Vegito. Facciamo così. Mamma mia. Ok. Ci siamo attivati i buff, switchiamo su TN, sicuramente se lo tanka un Rising Rush di Vegito Blu, nel caso dovesse farmelo. Vabbè, questa proprio non la sente nemmeno. Ok. Ci fai nulla, Vegito. Nulla. Oh, finalmente preso. Andiamo ancora di Blast. E finalmente uno in meno. Ok, Clash. 9, 7, 6. 8, 8, 6. Buono. Vai, Yamchione. Ora possiamo rushare, decisamente sì. Proviamo ancora Blast. Eh vabbè, è andata così. Ok. Arrabbiatissima Kefla, raga. Ok. Yamchione è andato e ci buffa. Nice. Uh, TN, TN, TN. Ma sei un trattore, TN. Mamma mia, che danno. I'm immune, però. Gli ho preso il tempo. E Krillin pone fine a tutto questo. Raga, l'ho utilizzato con un po' di difficoltà inizialmente. Era un attimo arrugginito su quello che facessero. Però devo dire che... Fa il suo, fa il suo, fa il suo. Prossimo match. Team Future, se non sbaglio. Ok, sì. Eh, non c'è neanche Vegito Blu. Ok, buffiamoci. Anche noi. Uno scontro Yamcha Vegeta God, non l'avete mai visto, ah. Ah, non benissimo. Non benissimo, peccato. Va bene, non ci hai fatto un granché. Un po' di retro e Blastiamo. Ok, bravo, doppia attesa. Buttiamo dentro TN per tankeggiare. Chill, Black, non farmi un Rising Rush. Non farlo, Black, non farlo. Non farlo, Black, non farlo. Proviamo di blu. Addio TN, il nostro last hand praticamente. Quello che non doveva assolutamente morire per primo. Grazie, Black e le tue combo infinite. Nice, perfect. Non facciamo nulla, raga. Molti meno danni comunque dal momento che non abbiamo più i tre alleati. Non bene. Ce la prendiamo. Krilin, in cassa. Ok. Ok. Ok, 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 ok. È un match orribile, è un match orrendo. Buono. Abbiamo fatto fuori un problema grosso. Non riesco a prendere un tempismo, raga. Lagga. Vai, Krilin. Vai, Krilin. Vai, Krilin. Preso. Vai, Krilin. Toro vero. Toro vero. Toro vero. Resta solo vegeta. Ok, non ho carte, non puoi distruggermi ciò che non ho. No. Non abbassa. Godo. Krilin. Krilin. Il vero last hand. E la vergogna è troppo e deve forfettare. Prossimo match. Qua raga, o si piange o si sta una bottiglia di Kasado. Zenkai 7 Tanti problemi Ok preso Vai Yamcha Super trattore Yamcha Pesca ancora Pesca ancora No È arrivato cattivissimo proprio Ok Incastiamo qualcosa Basta Troppo Goten ciao Ok Possiamo subire qualcosa Ma che simpatico Ma che simpatico che sei Ok 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 Nice Ora siamo qua Io e te Gohan Nessuno verrà a salvarti Dall'ira di Yamcha Nessuno Nessuno Vediamo un po' Grande Yamcha Grande Yamcha Ok Gohan obliterato Va bene può decisamente morire Ha fatto il suo Preso Ed eliminato Gohan resti tu Ok No Facciamo questo Facciamo questo Facciamo questo E abbiamo un tantino vinto Aspettate Ah Casado 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 Di cristallo Come Willy il principe di Bel Air Alla tua Gohan Tenkai Prossimo Team Future Team Future Vediamo un attimo come ce la caviamo contro questi Ok Torang Su Ti vedo un po' troppo agitato Mi hard counter praticamente con tutti i colori Quindi non benissimo Ok Trasformazione Trasformazione Vuoi veramente già spararmi l'ultimezu Yamcha? Così! Di cattiveria pura! Che che sei Zamasu, ma sei molto cattivo! Ok! Aia! Hmm-hmm! Ok, perché non c'ho l'ultima sfera del drago? Perché non ce l'ho? Dov'è la mia ultima sfera? Perché non me la puoi dare? Eccola! Dopo una vita! Dopo una vita! Ok! Famolo! Facciamolo, facciamolo! Eh! Che bella mano! Un po' di blast! Ottimo, ottimo, ottimo! Ok! Trunks eliminato! No! Proprio tu dovevi rientrare! Non poteva rientrare per un attimo Trunks blu! No! Tipo sciolto! Vai! Uff! Rischio! Nice! Preso! Tantico! Un po' di hava! Tantico! Un po' di hava! Saga! Un po' di hava! E' bella! Buongiorno! Uh, ok Ok, 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 ok Prossimo match Altro con Zenkai Dobbiamo battere anche questo, raga Devi farlo, Yamcha Sei tu il prescelto Addirittura red, red, green Perché non c'ho dei blu Abbastanza infima questa cosa Da parte tua Ma no problem E lagga pure, non proprio bene Ok, dentro Krillin Nice, preso Great Saiyaman Blastino No Come connessione instabile Ma c'è una mamma Vergognati proprio Ultimo match Team Yellow Yellow Blue Non sarà bellissimo Per Krillin Nice Ok, scherzavo Non nice Incassiamo, incassiamo Il nostro tempo Questo è altro Nice Preso Dentro Yamcha Facciamo che me lo blocco con me Sto Vecito E diventa carne da macello Ok, meno uno Ok, facciamo così E facciamo così Ah, peccato Era pronto Troppo lento Purtroppo Questa no Questa no Bro Ok Non credevo che fosse già pronto Pensavo di riuscire ancora a dargli un attacco Prima che rientrasse Preso Ottimo Dentro Krillin Ottimo E addio Vai De-buffiamolo Addio Vegito Dai, è durato troppo poco Questo match Ne facciamo ancora uno Prossimo Ultimo match Team Fusion Partenza di Gothel Aggressive Bro Ah Speravo che Fosse già Nel timing giusto Ma non ci è andata bene Ok Gotenks Non strafare Non strafare Buttiantien Raga Sta picchiando duro Nice Stavolta è preso Troppo Ottimo E questo ragazzo Lo blocchiamo con noi Raga Yamcha è un pazzo Yamcha è un pazzo Ok Anche Anche il mio avversario È un po' pazzo Comunque Visto che sta giocando In un modo un po' strano Ma va bene così Lasciamolo Ah Ah Un po' di blast Una special move Voglio fargli tanto danno Quindi Andiamo di special move Come carta presente Ok Avrei dovuto scegliere Per la Amovaghi Tanchiamo con Tien Shield Se lo sarà caricato Rising Rush Boh E qua lo debuffo E metto Yamcha Preso Kefla Krillin Latilover Ci pensa lui a te Effettivamente È l'unico Che si è sposato Tra i tre Qualcosa vorrà Pur dire No? Che vai questa Se la prende Yamcha Bravo Ottima attesa Babbeo io Che ho saltato All'infinito E Yamcha E Yamcha Uh 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 Punito male Nice Uh Ci pensa proprio Krillin Krillin il castigatore Andiamo a parlare Dei Super Warrior Che dire Raga di questi Super Warrior È un team Inarrestabile Non vedo l'ora Che possa uscire Finalmente Qualcosa Che vada a Completare Questo team Che è già Al momento Attualmente Qualcosa Di semplicemente Magnifico E ora Permettetemi Un brindisi A tutti i tier alti Sacrificati In questo showcase Ciao Ciao